Mi chiamo Valeria Corso, ho 16 anni, vengo da Alcamo in provincia di Trapani e niente, sono qui per cantare e divertirmi. Ciao a tutti, sono Emanuele Caputo, vengo da Napoli, anche se ormai sono 6 anni che abito a Cattolica. Ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita, la pazienza delle donne incomincia a quell'età. Mi chiamo Naga Sodano, ho 20 anni, vengo da San Vitaliano in provincia di Napoli, sono al primo anno di filosofia alla Federico II di Napoli, sono un'appassionata di fotografia e amo il jazz. Ogni voce ascolto e non sei tu, dove sei perduto amore, ti cercherò, ti troverò, ti seguirò.